Francesca Redari, segretaria generale della FIOM CGL. La vicenda GKN ha avuto un risalto molto importante sui media nazionali. Ecco, segretario, voi come FIOM siete molto attenti a questa vicenda. Quello che mi ha colpito un po' di questa vicenda è che l'azienda lavora all'85% su commesse FCA, il gruppo ex FIAT. Ora gli operai dipendenti dicono che questo fatto che FCA in questa vicenda non si sia sentita assolutamente, magari poteva fare una telefonata a questo fondo inglese per dire un attimo stanno lavorando per noi, vediamo un attimo, che non ci sia stato nessun interessamento, possa mettere anche in campo la possibilità che FCA sia pensando a dismettere la produzione di auto in Italia. Lei vede questo rischio dietro questa vicenda? Allora, io volevo rispondere in questo modo, diciamo dare due tipi di risposte diverse. La prima è questa, che la GKN, giusto, sta lavorando molto per FCA, come la Giannetti Ruota, ci sarà una manifestazione lunedì 4 per la Giannetti Ruota che sta in interesse a Brianza e Brescia, lavora per CNH. In tutte e due queste aziende erano piene di commesse e sicuramente, per quanto riguarda la Giannetti, ma immagino anche la GKN, hanno saputo dell'intenzione dei fondi, che sono tutti e due fondi, di chiudere esattamente come l'hanno saputo i lavoratori, diciamo all'ultimo secondo. Quindi sicuramente non c'è un tema di commesse o di quantità di lavoro che è alla base di queste scelte e proprio per questo, come dire, quesiti produttivi andrebbero, noi chiediamo che il governo li salvaguardi, non che accompagni la chiusura e le cessazioni. Se parliamo appunto di PNRR di sistema industriale di questo Paese, che senza l'automotive, come dire, perde di rilievo senza ombra di dubbio. I rapporti che sono intercorsi tra le aziende committenti e le aziende fornitrici, noi naturalmente non lo sappiamo e non sappiamo che cosa sia accaduto. Il rischio che ci sia un disimpegno di FCA dall'Italia, indipendentemente da questo, è un rischio che noi vediamo tutto. Abbiamo molto spinto perché il governo se ne interessi, perché FCA è importante, ha diversi stabilimenti di assemblaggio di motori in Italia, non ha fatto nessuna innovazione sui motori, produciamo motori endotermici, diciamo, da questo punto di vista, quindi la fusione con PSA ci ha visto in una condizione certo non di forza. PSA è prevalente, diciamo, rispetto all'importanza nel nuovo gruppo e abbiamo dei segnali molto preoccupanti. Il fatto che la Sevel in questo momento, che produce Ducato, che è sempre andato fortissimo, che è uno stabilimento che non ha mai avuto problemi, improvvisamente diminuisce i turni, ha delle fermate, sicuramente deriva in parte dall'assenza di semiconduttori a proposito di piano industriali, ma del Paese, non in questo caso semplicemente di FCA, ma anche dal fatto che sta facendo uno stabilimento, che c'è uno stabilimento gemello in Polonia a cui sta trasferendo attività. Allora è chiaro che se non si capisce e non si vincola e non si chiede come fanno tutti gli altri Paesi industrializzati del mondo al produttore di auto, che intenzioni ha in questo Paese per riempire gli stabilimenti, visto che è arrivato a questo matrimonio con metà degli stabilimenti vuoti, è un elemento di rischio molto grande. Noi non sappiamo quali sono le vere intenzioni, ci preoccupano le scelte che vengono fatte, riguarda FCA e riguarda naturalmente tutto l'indotto che c'è intorno. Noi abbiamo chiesto ripetutamente al governo un incontro, che pare che ci sarà l'11, il governo ha convocato le parti sindacali con Stellantis, è una cosa nuova, importante, non era praticamente mai accaduto e ci aspettiamo di avere risposte alle nostre domande di impegni concreti. Ecco, David, un'ultima domanda. Gli imprenditori, è vero che l'epidemia ha colpito tutto il Paese, ha messo in ginocchio il nostro sistema economico, hanno ricevuto molti fondi da parte dello Stato. Ora il Paese sta ripartendo, noi speriamo che vengano confermati tutti i dati positivi che ci dicono i vari osservatori, insomma, per quanto riguarda la crescita. Ecco, gli imprenditori in questa fase, secondo lei, stanno spugendo, però, più Stato o meno Stato? Secondo la FIOMCGL, in questa fase ci vuole più Stato o meno Stato per il rilancio economico del Paese? Mi permette una battuta. Come si è dimostrato anche in questi anni e anche ultimamente, non tutti, ma diciamo in via di massima gli imprenditori fanno gli interessi dell'impresa. Per fare gli interessi del Paese ci vuole qualcuno che tenga conto degli interessi degli imprenditori, degli interessi dei lavoratori, degli interessi della cittadinanza che ci sta intorno, degli interessi, diciamo, della trasformazione positiva di questo Paese. Gli imprenditori fanno l'interesse dell'impresa, tant'è che stanno crescendo ma le assunzioni sono tutte precarie e quindi, come dire, c'è un tema che da questo punto di vista di non particolare impegno. Crescono dove decidono di crescere, al sud meno che al nord e quindi non c'è un'idea generale. Raramente si esercitano su una nuova progettualità per quanto riguarda dove spendere le risorse, per riafficinare nel territorio nazionale, che è una politica che si sta facendo da tante parti, il famoso reshoring, cioè accorciare un po' le catene e quindi come fare investimenti che rendano più forte la struttura. Noi pensiamo che in questo Paese, che l'Italia abbia preso un'ubriacatura di mercato più forte negli ultimi vent'anni del resto d'Europa, per fermarci solo all'Europa, e anche dell'America, perché se noi pensiamo che tutti gli investimenti in tecnologia avanzata in America vengono fatti con i soldi pubblici nella Silicon Valley e poi dopo dati e privati, tutte le app, la Apple e così via, hanno soffruito di questa capacità di ricerca e di innovazione fatta con i fondi pubblici sulle tecnologie militari, sull'auto e così via, noi pensiamo che invece in Italia ci sia una debolezza estrema, che c'è bisogno di uno Stato che sia in grado anche attraverso le partecipate, che sono le aziende che vanno meglio, non è che sono quelle che vanno peggio, sono quelle che vanno meglio, e attraverso una capacità di progettazione di far sì che queste risorse che vengono spese rafforzino la struttura industriale del Paese e quindi di conseguenza il mondo del lavoro, non che siano volatili e che magari vengono dati a una multinazionale e tra qualche anno prende e se ne va, perché abbiamo visto che le multinazionali lo fanno. Ci vuole una capacità progettuale per cui c'è bisogno dello Stato, lo Stato può essere proprietario, può essere in comproprietà, diciamo così, o può semplicemente anche sostenere, aiutare, aiutare l'origine di una cosa e poi uscire, ci sono tanti modi, può costruire condizionalità che allo Stato non ci sono, sicuramente bisognerebbe evitare che dove entra lo Stato si comporta peggio dei padroni e magari annulla i contratti nazionali come sta facendo in Alitalia. Quindi ci vuole uno Stato che abbia in sé l'idea che non è che deve fare mercato, deve fare lo Stato, far andare bene l'economia ma il sistema sociale del Paese nel suo insieme.